Salve a tutti ragazzi video misterioso guardate qui due oggetti nei cieli della Spagna guardate ragazzi fin qui nulla di strano ma aspettate ragazzi ecco qui zoomiamo un pochino e andiamo a vedere che succederà guardate l'oggetto di sotto come si muove e vedrete a breve che succede perché credetemi quello che succederà poi non lo so come lo debbo spiegare anche perché il video ragazzi zoomiamo un po' zoomiamo un po' ecco qua adesso si vedono bene guardate qui non so come spiegarlo ragazzi quindi guardate bene e poi mi raccomando lasciate il commento e ditemi cosa ne pensate secondo voi sono ufo oppure no secondo me ragazzi non può essere altro almeno secondo me guardate qui collidano ed esce una luce immensa ragazzi di punzione quindi sinceramente io proprio non so che dire anzi non so che spiegare in effetti questo è il problema quindi non lo so comunque rivediamo la scena ragazzi ecco qui vediamo esattamente ed esce tipo un sole ragazzi mi raccomando come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero